Buongiorno Samantha, sono Andriana D'Aquino dell'agenzia di stampa DN Kronos. Hai già cominciato i tuoi esperimenti scientifici? Sulla attività scientifica devo dire ho avuto un battesimo del fuoco, credo il mio secondo giorno di lavoro sulla stazione spaziale. C'è una curva di apprendimento, i miei primi giorni si è molto lenti, bisogna sempre fare un sacco di domande ai membri dell'occupaggio più veterani, in particolare Boch Wilmer che è il comandante della stazione, ci ha aiutato moltissimo. Mi sono ritrovata sullo schedule il secondo giorno che ero qui, un esperimento dell'agenzia spaziale italiana che si chiama Blind and Imagined, molto interessante sulla neurologia e sulle strategie che ha metto in atto il cervello per adattare la coordinazione motore e l'equilibrio a questa condizione di assenza di peso. Negli ultime 36 ore, l'ho appena tolti, ho portato addosso una serie di sensori di temperatura che hanno monitorizzato per 36 ore, registrato la mia temperatura per l'esperimento a ritmi circadiani dell'agenzia spaziale europea e tanti e tanti altri.